Make the difference, che differenza avete fatto in questo progetto? Che cosa avete fatto di nuovo? Imparare a fare un vaso è una cosa che non abbiamo mai provato e poi un'esperienza nuova che nessuno aveva in mente di farla. La insegnerai a qualcuno? Non lo so, forse a mia sorella la più piccola. Che lavoro vorresti fare da grande? Boh, non lo so ancora, devo ancora decidere. Che modelli hai nella tua vita? I modelli, i riferimenti nella tua vita? Non hai riferimenti? No. Tu studi qualcosa che ti appassiona? Sì, matematica, francese, geometria. Ok, le materie ti piacciono. Incoraggiate gli altri che vogliono vincere i prossimi anni. Beh, c'è, dovete provare anche le cose che non avete mai in mente, perché forse vi viene in mente che non ce la farete mai a fare una cosa, però con il tempo imparerete in fretta. L'impegno. Benissimo, brave. Grazie.